Il loggiato realizzato da Giorgio Vasari in piazza Grandi ad Arezzo sta tornando al suo antico splendore. Sono già visibili i primi risultati del risanamento del monumento vasariano che comprende il restauro delle superfici dei pilastri e degli elementi architettonici della loggia, dei gradini dello scalone monumentale che conduce alloggiato da piazza del Praticino e della scalinata in pietra che conduce a piazza San Martino. Siamo partiti due mesi fa convinti che il tempo in qualche modo ci agevolasse i lavori, nel periodo estivo poi in realtà la stagione non è stata ottimale, quindi sono andati un po' a rilento perché i materiali che sono stati utilizzati avevano necessità di temperature un po' maggiori per poter tirare, per poter andare avanti con il restauro. Oggi vediamo le prime tre colonne, quattro colonne restaurate, devono essere ancora tinteggiate, appena finito il Salacino dopo il 22 di giugno il cantiere andrà avanti, andrà avanti sia nel lato finale ovvero da piazza San Martino ma poi inizieremo anche tutto quest'altro lotto. Sono due lotti da 250 mila euro, la ditta ci ha assicurato che per metà novembre quando inizierà la città del Natale il cantiere sarà concluso e quindi per fine anno avremo finalmente tutte le colonne e la scalinata centrale restaurate e restituite alla nostra cittadinanza.